Sfiducia al sindaco Cosimo Ferraioli. Eufemisticamente parlando c'è il match ball per le opposizioni consigliani. Dalla conferenza dei capo di gruppo è emersa chiara la volontà di mettere tra i punti all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale del 20 maggio anche la mozione di sfiducia al sindaco ai sensi dell'articolo 81. Sulla questione interviene l'ex sindaco Pasquale Mauri che pone l'accento sull'implosione della macchina comunale e della stessa amministrazione Ferraioli. Nostro malgrado abbiamo dovuto toccare con mano l'incapacità totale politica e amministrativa di questo sindaco e di un'amministrazione fantasma. Abbiamo visto quanti guai questa amministrazione è riuscita a portare avanti in quattro anni. Secondo me sono fatti che sono unici nella storia di Angri che abbiamo il servizio Omenza che funziona solo grazie al senso di responsabilità delle ditte perché mancano gli atti formali per esplodare queste attività. Abbiamo il servizio di trasporto scolastico, abbiamo tanti servizi che vengono esplodati solo perché ci sono delle ditte responsabili che erogano questi servizi ma anche l'atto amministrativo che consente loro di poter operare in serenità e quindi nelle prossime settimane porteranno sicuramente questi debiti fuori bilancio che denotano l'incapacità del sindaco e dei capi settori che lo stesso ha nominato. perché tutto questo sarà denunciato non solo alla Corte dei Conti ma anche alla Procura della Repubblica perché un sindaco, pur conoscendo l'incapacità di alcune persone, solo per un fatto politico clienterale perché sono amici degli amici, sono stati nominati responsabili di quei settori e oggi, ahimè, chi paga questi disservizi è l'intera comunità. Opposizioni che fanno leva sui numeri che potrebbero venire meno anche per l'assenza forzata del consigliere Pauciulo e a far mancare la maggioranza al primo cittadino potrebbe essere proprio quest'ultima assenza un dissenso manifestato in maniera compatta da 11 consiglieri comunali soprattutto sulla delicata questione della riqualificazione area ex MCM. Il sindaco, pur essendo un tecnico e pur essendo un funzionario di un comune non ha tenuto conto che all'interno delle MCM potessero esistere dei manufatti di grande rilevanza storica, di grande rilevanza architettonica e quindi non ha avuto la sensibilità di chiedere alla sovrintendenza se c'erano i presupposti per avere qualche vincolo. Solo grazie alla responsabilità di 11 consiglieri comunali che avendo interpellato cittadini e tecni sono venuti a conoscenze che potevano esserci all'interno di qualsiasi questo interesse storico e quindi abbiamo rivolto all'autorità competente un'istanza e oggi abbiamo di fatto che alla responsabile provinciale della sovrintendenza ha fermato i dovuti per la verifica del caso e quindi questa è una cosa di una gravità inautica che mostra il pressappochismo del sindaco la superficie reale del sindaco, l'incapacità del sindaco che non può avere più il ruolo di sindaco di questa città perché nei fatti la città non lo riconosce più e quindi riteniamo utile e puntiamo al senso di responsabilità di alcuni consiglieri e oggi hanno la possibilità di dimostrare se hanno dignità politica e se veramente vogliono bene ad Angri aiutandoci a sfiduciarlo solo in questo modo, in questo modo noi possiamo porre fine a questo dramma che Angri sta vivendo avendo un sindaco credo il peggiore da quando esiste la carica di sindaco, cosa peggiore non poteva capitarci purtroppo è capitata proprio ad Angri e noi faremo il possibile per liberare Angri di questa eattura Mauri si dice pronto ad affrontare una nuova competizione elettorale anche a furore di popolo e lasciando induire che la sua macchina organizzativa si è già messa in moto in vista del voto che comunque con o senza il possibile commissariamento è previsto per il prossimo anno termine naturale del sindacato Ferraioli Io volevo e voglio essere un poco il padre politico di un gruppo però se i cittadini, se gli amici mi chiederanno un ulteriore sacrificio per tentare di porre un argino a questa deriva negativa che sta portando avanti questa amministrazione certamente non mi sottrarrei perché il senso di responsabilità e lo spirito di servizio che mi ha sempre animato è ancora vivo in me e credo di poter dare ancora un contributo a questa città